Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Mi verrebbe un titolo, se no, se dovessi esprimere. La mia Africa. Cosa voglio dire? Che il rapporto con la realtà africana con cui la Francia ha avuto un rapporto coloniale che si è consumato poi negli anni 50-60 con mille lacerazioni, la rivolta di Algeri, guerre, c'è un bellissimo film di Gillo Pontecorvo che racconta tutto quello che accadde ad Algeri, De Gaulle andò al potere sull'onda di quella vicenda. Una crisi francese nata con la fine dell'epoca coloniale con tutta una serie di squiribili. De Gaulle prese il potere in un paese di grande storia democratica in una maniera anche un po' traumatica. Il gollismo è stato, ed è ancora adesso un po' con numeri più bassi, una parte della storia democratica della Francia. Quindi questa interazione con questo tema dall'epoca di De Gaulle anche a queste periferie dove terze e quarte generazioni evidentemente male accolte, male integrate, la colpa non saprei a chi darla. È un problema vero che c'è. Mi viene da dire una cosa però, invece sulla crona che ho finito. Giorni fa, lei si ricorderà, il ministro dell'interno francese ci dava lezioni costanti, l'Italia non sa fare questo, l'Italia non sa fare quello. Io devo dire, con gli scontri a Place de la Concorde nel centro di Parigi alcune settimane fa, si ricorderà che un'altra fase del disordine, a questa che si estende dalle periferie anche al centro, mi pare che il ministro dell'interno francese potrebbe dare meno lezioni all'Italia, poi si può discutere come è intervenuta la polizia, l'episodio cosa ha scatenato, però c'è un problema anche probabilmente di integrazioni non risolte ed è una storia che io faccio partire da lontano, come le ho detto.